In questa lezione parleremo di come determinare l'ombra in proiezioni ortogonali di un triangolo parallelo al piano verticale, con il lato di base appartenente al piano orizzontale, quando esso è investito da un raggio luminoso di inclinazione qualsiasi. Naturalmente utilizzeremo un'illuminazione parallela, cioè con sorgente luminosa naturale. Prima di procedere è necessario conoscere il procedimento che permette di determinare l'ombra del punto, perché l'ombra delle figure piane si ricava per punti. L'argomento è stato trattato in un precedente video di questo canale YouTube, che vi consiglio pertanto di andare a riguardare. Vengono dunque assegnate le proiezioni ortogonali del triangolo ABC e l'inclinazione del raggio luminoso. Essa è rappresentata da una retta generica, che come solitamente si fa, collocheremo a sinistra della figura. L'inclinazione delle due proiezioni del raggio può essere scelta assolutamente a piacere e può essere diversa per ciascuna proiezione. Come si vede, il lato di base AC appartiene al piano orizzontale PO. Infatti le seconde proiezioni dei punti A e C non hanno quota e si trovano sulla linea di terra. L'asse del triangolo giace su una retta perpendicolare al PO e quindi parallela al PV, di cui abbiamo studiato le proiezioni ortogonali in un precedente video di questo canale YouTube. Quindi abbiamo proprio a che fare con un triangolo perpendicolare al piano verticale e con il lato di base appartenente al piano orizzontale. Poiché i punti A e C si trovano sul PO, la loro ombra sul piano orizzontale coincide con la loro proiezione ortogonale su quel piano. Questo è un fatto che abbiamo potuto constatare in un precedente video di questo canale YouTube dedicato all'ombra del punto in proiezioni ortogonali. Sappiamo, perché lo abbiamo visto sempre nel video di questo canale YouTube dedicato all'ombra del punto in proiezioni ortogonali, che delle due ombre di un punto solo una è quella reale, l'altra invece si dice virtuale ed è una pura costruzione geometrica. L'ombra reale è quella positiva, mentre l'ombra virtuale è quella negativa. Le ombre sul PO sono positive e quindi reali solo se si trovano sotto la linea di terra, mentre le ombre sul PV sono positive e quindi reali solo se si trovano sopra la linea di terra. Poiché le ombre dei punti A e C sul PO si trovano sotto la linea di terra, esse sono positive e quindi reali. Le ombre di questi due punti sul PV non sappiamo ancora dove si trovano, ma una cosa possiamo dirla con sicurezza, e cioè che saranno ombre virtuali dal momento che le ombre reali le abbiamo già trovate e quindi negative, cioè situate sotto la linea di terra. Trattandosi di ombre virtuali possiamo quindi trascurarne la determinazione e questa è una facilitazione non da poco. Mandiamo adesso dalla prima proiezione del punto B una linea parallela ad R' che è la prima proiezione del raggio luminoso e dalla seconda proiezione del punto B una linea parallela ad R' che è la seconda proiezione del raggio luminoso. Ne determineremo le tracce con la stessa procedura che abbiamo visto nel dettaglio nel video dedicato alle proiezioni ortogonali della retta e nel video dedicato all'ombra del punto e che potete ritrovare all'interno di questo canale YouTube. La prima traccia la chiameremo B1, la seconda traccia B2. B1 e B2 sono le ombre del punto B rispettivamente sul PO e sul PV. L'ombra B1 si trova però sopra la linea di terra, quindi essa è negativa e quindi virtuale. L'ombra B2 si trova anch'essa sopra la linea di terra, quindi essa è positiva e quindi reale. Uniamo tra loro tutte le ombre dei punti sul PO, cioè contrassegnate dal vertice 1, in modo da ottenere l'ombra del triangolo sul PO. Sappiamo, perché lo abbiamo visto nel precedente video di questo canale YouTube, che dell'ombra di una figura piana sul PO è reale solo la parte sotto la linea di terra. L'altra parte è virtuale, quindi dell'ombra del triangolo sul PO terremo solo la parte reale. Trovare l'ombra della figura sul PV è ora tutto sommato facile. Sappiamo infatti, poiché l'abbiamo visto nel precedente video di questo canale YouTube, che quando una figura piana getta ombre in parte sul PO e in parte sul PV, le due proiezioni d'ombra si incontrano sulla linea di terra. Quindi, per determinare la parte reale dell'ombra del triangolo sul PV, basterà unire l'ombra del punto B sul PV, ombra che sappiamo essere reale, con i due punti estremi in cui l'ombra reale del triangolo sul PO tocca la linea di terra. Ecco ottenuta l'ombra del triangolo. Concludo facendovi sapere che do ripetizioni su tutti gli argomenti di disegno tecnico, sia dal vivo che soprattutto online, agli studenti delle scuole medie, superiori o universitari. Chi fosse interessato a ricevere informazioni a riguardo, tariffe, disponibilità oraria, metodi di pagamento e di svolgimento delle lezioni, può contattarmi attraverso l'indirizzo e-mail presente qui sotto, nella descrizione del video. La trascrizione di ciascuna video-lezione di disegno tecnico presente nel canale è invece riportata nel mio blog, il cui indirizzo è aliceappunti.altervista.org.blog. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici. Grazie. 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 Grazie.